Marino la nostra giornata si conclude con direi il momento più bello che è quello di? Che è quello del ristoro, ovviamente dopo aver donato al donatore viene consigliato il rintigro per quanto riguarda la parte liquida che hanno perso, per cui abbiamo qua aranciata, abbiamo qua succhi, c'è da calcolare che il donatore si presenta a digiuno, per cui può mangiare la brioche, mangiare un panino e comunque rifugillarsi. Per riprendere le forze. Esatto, abbiamo solitamente qua un addetto che ci dà una mano e facciamo in modo che poi segua il discorso del bar. Alle nostre spalle vediamo il coordinatore del centro di Piario, Franco Scandella, e i due presidenti, il presidente della sezione Avis di Ponte Nossa e il presidente della Val del Riso. Come è andata la giornata di oggi? La giornata è andata benissimo, sentendo i due presidenti, la giornata magnificamente bene, anche se il tempo non lo permetteva perché oggi sta nevicando, però diciamo che il flusso è stato perché è sempre una cosa programmata dalle Avis, è attuale di Ponte Nossa, Premolo e la Val del Riso e di conseguenza sanno già quanti donatori potrebbe arrivare. Quante donazioni sono state fatte oggi? Questa mattina abbiamo avuto 66 donazioni, calcolando poi qualcuno che ha fatto gli esami, sono girate circa 80 persone al centro di Gropina questa mattina. Un numero importante? Esatto, un numero molto importante perché penso non sia un record, però quasi, insomma, un bel numero di persone. In Val del Riso quanti donatori abbiamo? Noi abbiamo circa un 60 donatori effettivi, poi ce ne sono una ventina, tra due o tre soci collaboratori e aspiranti donatori, una quindicina. Su una popolazione di? Diciamo su 2000 e qualcosa persone. Quindi cosa ci può dire del percentuale? Il percentuale dico che non è molto alto, però purtroppo prendendo i giovani a giorno d'oggi è molto difficile riuscire a rintegrare Avisini nei gruppi, o sostituendo quelli che purtroppo per limiti di età devono anche smettere di nonare, insomma. Quanto è difficile o quanto è impegnativo gestire le dieci sezioni? Ma non è impegnativo e nemmeno difficile, cioè basti un attimino la collaborazione di tutte e dieci le Avis. Quando c'è la collaborazione è molto facile fare tutto. Le dieci Avis è composta da Bossi e Kosovere che sono a tutto l'opposto verso l'Overe. Anche loro gravitano su questo centro. Poi arrivano Cerete, c'è Cerete, c'è Rovetta, Clusone, c'è Ponte Nossa, la Val del Riso, Villadogna e Gromo. Gromo va a coprire un attimino l'Alta Valle Seriana, la Val Bondione. Questi sono... e anche Castione perché abbiamo lasciato Castione. Comunque hanno sempre collaborato bene, c'è stata sempre una buona collaborazione. Dal momento avevano formato anche le zone, perché qui si chiamerebbe la zona del punto di raccolta di Piario, zona 4. Funziona abbastanza bene, ma soprattutto funziona bene come coordinamento. Niente, spereremo che nel futuro, adesso brevemente, a tutte le Avis che gravitano su questo centro, c'è il cambiamento delle cariche su tutte. Vedremo un attimino alla fine, poi quando ci riuneremo assieme un'altra volta per discutere con i nuovi presidenti. Siamo arrivati davvero in conclusione. Sentiamo subito quali sono i tre messaggi dei tre presidenti presenti oggi. E come presidente dell'Avis di Ponte Nostra Premolo vorrei fare un invito ai giovani e anche meno giovani di venire a iscriversi all'Avis. Ricordo solo che bisogna avere 18 anni e godere di buona salute. La donazione è sì un impegno, ma non un impegno così eccessivo, un sacrificio così grande come si può pensare. E si può pensare soprattutto che si possono salvare le vite umane. Ricordo che la donazione è quattro volte per gli uomini e due volte per le donne, quindi un piccolo sacrificio per fare molto. Prego. Allora, come coordinatore del centro di raccolta, invito tutte le Avis che gravitano sul centro di raccolta a venire a donare. Giovani, giovani, venite, venite che c'è posto per tutto, grazie. Ma lei voleva ricordare anche la pizzata? Sì, sì, sì. Allora, come Avis di Villadogna, la serata del 13 di febbraio, dato che c'è anche l'elettiva, abbiamo una pizzata per tutti qui a Piario, per tutti i nostri iscritti dell'Avis di Villadogna. Una pizzata, pizza, birra e tutto quello che c'è offerto dall'Avis di Villadogna. Venite, venite tutti, grazie. Ecco, un momento così bello, non potevano ricordarlo, giusto? E passiamo al presidente della Val del Riso. Io ormai è già stato detto di più, come presidente Gorno Oneta, mi sento di dire anch'io di spronare di più i giovani al dono del sangue che poi non è solo, va a fin di bene e ecco, basta. Abbiamo passato davvero una bellissima giornata con voi. Un messaggio finale c'è, mi pare. Qual è? Sì, sì, il tuo miracolo. Abbiamo capito molte cose realizzando questo servizio. La prima è che non è così impegnativo diventare soci Avis. La frequenza delle donazioni è di due volte all'anno per le donne e quattro volte per gli uomini. L'importanza del gesto, di questo gesto è fondamentale perché altre vite possano continuare. Per Vivi Week Clusone è tutto. Finisce qui la nostra puntata di oggi, ma non prima di augurarvi una settimana speciale.